eccoci e bentornati sul mio canale dopo diverso tempo finalmente torniamo a parlare di fifa 17 perché vi devo riportare una notizia veramente molto ma molto interessante electronic arts quasi sicuramente in occasione del black friday ha annunciato che questo fine settimana ci saranno grosse novità per tutti coloro che vogliono provare fifa 17 che ovviamente ancora non l'hanno acquistato ha annunciato infatti che in questo weekend ci sarà la possibilità di giocare gratuitamente a fifa 17 sia su ps4 che xbox one ovviamente a differenza della demo disponibile già nello store di microsoft e di sony avremo la possibilità di giocare al gioco completo quindi tutte le opzioni di fifa 17 saranno disponibili in questo weekend per ps4 xbox one infatti troveremo l'ultimate team la modalità carriera e una porzione della nuova modalità storia che è dei giorni quindi il viaggio soltanto il viaggio è limitato potremo scaricare i fifa 17 a partire da domani alle ore 19 e potremo giocarci fino a lunedì 28 novembre quindi un gran bel weekend dove per tutti coloro che non hanno la possibilità o ancora sono indecisi di prendere fifa 17 si potrà giocare al gioco gratuitamente una cosa molto importante nel caso in cui poi prendeste il gioco completo al termine della prova tutti i progressi che hai fatto all'interno di questa versione tra virgolette demo avanzata saranno importati appunto nel gioco completo fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa interessante iniziativa da parte di electronic cars per questo weekend su fifa 17 e noi ci vediamo con tanti nuovi video video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale con tanti nuovi video con tanti nuovi video